Qualcuno dice che l'acchiappasogni è una rete di energia che tiene lontani i nostri incubi Al nostro acchiappasogni che ci protegge dal male Jonesy, fa attenzione Faccio attenzione a cosa? Ma questa volta qualcosa di alieno ha invaso il nostro mondo Secondo me è un atterraggio di fortuna Questa volta ho messo l'intera area in quarantena Niente di vivo uscirà da qui Il male è riuscito a passare L'avevi mai sentito un segnale così? Deve essere la tempesta Dici che è la tempesta? Io no, lo dici tu Oh mio Dio Non sei mai vista una cosa del genere? Dove stanno andando? Non è dove vanno che mi preoccupa ma quello da cui stanno scappando Signore Sì, lo vedo Caro, ma è enorme Proietta ciò che secondo loro vogliamo vedere Che cosa vuoi? Oh mio Dio Non la voglio vedere Jonesy Non posso vederla Vieni con me Owen Ti farò vedere cose che vorresti non aver mai visto Vieni con me